L'attesa è stata lunga ma i corsi di formazione prima della partenza del programma di reddito minimo di inserimento sono stati avviati per l'esercito dei 1545 tra ex copes ed ex lavoratori a cui è scaduta la mobilità. In tutto 60 ore di cui 20 per l'orientamento, 10 per la sicurezza e 30 per i tirocini che dovrebbero partire con progetti messi a punto nei comuni di provenienza di ciascuno dei rientranti nella platea dei 1545. Dopo un lungo e travagliato percorso diciamo che sono partiti questo benedetto corso. Entro la fine di luglio dovrebbe finire e successivamente, ufficialmente come ci hanno detto, sperando che non ci siano altri intoppi, ufficialmente ci hanno detto che in pratica dal primo di agosto dovrebbero partire tre mesi di tirocini formativi. Questi tre mesi di tirocini formativi dovrebbero finire per settembre e asseguire il reddito minimo di inserimento. Sono 22 mesi che siamo qua in questo gazebo, con il freddo, con il caldo, insomma non se ne può proprio più. Quindi di conseguenza l'auspicio nostro è che effettivamente non ci siano più intoppi. Si riaccende dunque una speranza in Viale Verrastro, dove da oltre un anno e mezzo i Lucani usciti dal mondo del lavoro hanno deciso di montare un gazebo davanti alla sede della regione Basilicata per ricordare al governo lucano la difficile condizione di chi non chiede sussidi di assistenza, ma una nuova occupazione. L'obiettivo certamente non sono queste 450 euro. Noi abbiamo sempre sostenuto e ancora oggi diciamo che la nostra soluzione non è il reddito minimo. Il nostro obiettivo è quello di lavorare.